Mancano due giorni alla chiusura della campagna elettorale. I toni a Favara in questi ultimi giorni sembrano essersi alzati notevolmente, toni accesi che a nostro modo di vedere dovrebbero lasciare spazio al rispetto reciproco e soprattutto ai veri programmi per la città. Troppo grande infatti è il problema economico finanziario dell'ente comune per perdersi in chiacchiere. A disposizione delle due candidate sindaco, Anna Alba e Gabriella Bruccoleri, solo due giorni per convincere gli indecisi a sostenerle in questa impresa. Oggi e domani e poi scatterà il silenzio. Niente comizi, niente propaganda. Insomma è giusto dare spazio e tranquillità ai cittadini al fine di poter scegliere il meglio per il governo della città. Sicilia TV in questo mese di campagna elettorale si è sforzata notevolmente per dare la possibilità ai favoresi di conoscere nel dettaglio i programmi e i propositi di ogni singolo candidato. Abbiamo organizzato ogni sera dirette tv. Ogni candidato sindaco ha avuto la possibilità di esporre il proprio programma. Non è mancato neanche il confronto tra tutti e sette gli aspiranti primo cittadino. È ovvio che anche per questo ultimo turno in vista del ballottaggio di domenica Sicilia TV ha programmato un incontro tra le due candidate sindaco. Un confronto diretto in programma questa sera alle ore 20 e 45. Alba e Bruccoleri avranno l'ultima possibilità di confronto pubblico. Si spera possa essere puntuale e soddisfare le vostre aspettative. La città valuterà poi nel segreto dell'urna. Appuntamento quindi a questa sera in diretta tv alle ore 20 e 45. 5 5